Noi ce la stiamo mettendo tutta, sicuramente stiamo lavorando sotto traccia e con prudenza nella misura in cui comunque al di là del lavoro svolto in questi dieci giorni che ha visto la nostra amministrazione tutta, lavorare per dare migliori risposte a chi poi dovrà decidere ci sono poi appunto le pareri importanti che sono quelle della prefettura, della questura ma anche dei vigili del fuoco e di tutti coloro che si occupano di questi eventi motivo per il quale usiamo la massima prudenza però siamo pronti e onorati ad ospitare questo concerto ce la stiamo mettendo tutta, come detto prima, con la speranza poi che non ci siano elementi che possano andare a inficiare all'ultimo momento l'evento. Per noi sarebbe una grande soddisfazione, un grande colpo nella misura in cui Montesilvano sarebbe il protagonista di un evento che porta 40.000 persone certe sul territorio abruzzese motivo per il quale non soltanto Montesilvano ma anche tutto l'Abruzzo avrebbe a ricasco degli elementi positivi per il territorio. Sindaco, qual è l'area che è stata individuata per ospitare eventualmente l'evento? L'area individuata è il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti Bagni Bruno e stabilimenti Sabbiadoro, ridosso quasi della Stella Maris. È un'area che gli organizzatori hanno da subito colto positivamente, dovranno essere messi in atto delle operazioni che porterebbero appunto quell'area a essere in qualche modo idonea, ancora più idonea, noi ce la metteremo tutta anche in concerto appunto con gli enti sovraccomunali che sono fondamentali in questo.